Musica E this is GaboPro e siamo tornati qui con la MyDriverCareer Siamo tornati con il primo gran premio della storia della MyDriver qui in Messico Dove in realtà la Formula 1 si corre dal 2015 dove sono visti vincere le ultime due mondiali di Lewis Hamilton Qui nel 2020 ci troviamo con una Ferrari davvero molto veloce Che deve cercare subito di correre ai ripari dalla Mercedes che sta venendo su sempre meglio O meglio, almeno qui dovrebbero riuscire ad arginare i danni Visto che la Mercedes sembra un po' faticare qui nella gestione delle gomme E anche un po' per tutta la vettura Non sembra essere proprio al top però dinamicamente su questo tracciato Non sembrano gradirlo più di tanto le vetture ingresi Praticamente con tutto quanto fatto in Inghilterra Pur essendo tedesca diciamo la Mercedes Invece poi la Forza India qui che solo con Gabbo sta andando forte Che è venuto in testa nelle prove libere È stata in testa, vedremo adesso se in qualifica sarà in grado di ripetersi E di cogliere la quarta pole position stagionale Dopo quella in America, quella a Monza e quella in Belgio Vedremo se sarà in grado di farlo E poi invece passiamo infatti alla Mercedes che qui a Hamilton Che non è lontanissimo nel mondiale dopo la vittoria che ha fatto dominando In Azerbaijan rischiano di farsi soffrire i 7 punti, diciamo molti punti ecco da Bottas Vedremo se sarà in grado qui anche di ripetersi per tenere ancora più aperto questo mondiale Che sembrava chiuso dopo Monza Adesso vedremo se sarà riaperto completamente dopo questo weekend Poi abbiamo la Red Bull che qui dovrebbe avere un gran vantaggio aerodinamico Anche se in realtà non riesce a sfruttarlo Proprio del motore che è davvero molto lento rispetto agli altri Con il lungo rettilineo che li penalizza parecchio Vedremo se Verstappen sarà sopra o sotto le aspettative Dopo che lui nella vita reale ha dominato gli ultimi due edizioni di questo gran premio Dopo aver fatto un po' il casino nel 2016 Detto questo ragazzi vi lascio i risultati delle qualifiche Che saranno state come sempre emozionanti Tirate fino all'ultimo secondo Ed eccoci qui I grilli di partenza del gran premio del Messico Qui tutto pronto per questo gran premio Ok per la prima volta avete le macchine della My Driver Con un po' il position per noi davanti a Sebastian Vett Poi seguono in terza posizione Super Valtteri Bottas Molto in forma su questo tracciato Si trova molto bene il finlandese davanti alle Clerc Quindi terza fila tutta Red Bull in difficoltà Invece a sorpresa Lewis Hamilton e anche Verstappen Settimo solamente Hamilton davanti a Carlos Sainz Non male comunque per lo spagnolo Che ancora lì è a lotta con i primi praticamente Poi a seguire in quinta fila abbiamo Lando Norris Che è preceduto da Grosjean Undicesima posizione per Ricciardo davanti a Urkeberg Quindi sesta fila Renault Settima fila con Magnussen Davanti a un Kvyat Che si dipende dalla miglior prestazione stagionale in qualifica Con questo quattordicesimo posto Quindicesimo solamente Lance Stroll Veramente in crisi nera rispetto a compagni di squadra Qui con sedicesimo poi Raikkonen Diciasettesimo Alex Albon Diciotesimo George Russell E a concludere Giovinazzi e Sirocchini Entrambi parecchio deludenti Rispetto a quello che ci si aspetta da loro Anche pur essendo rookie Detto questo ragazzi vi lascio alla gara Che sarà emozionante e intensa come sempre Eccoci qui Sul circuito con le immagini che erano sul circuito del Messico Che ha visto tante battaglie in passato Tante rimonte Vedremo se saremo in grado noi di Tirare fuori qualcosa di più Ecco qui intanto avete la sezione dello stadio Dove prima c'era la peraltata Il curvone velocissimo Che metteva sul rettilineo Adesso è cambiato poi per ragioni di sicurezza Vedete qui due zone di RS Detection point nella sezione dello stadio Tanti punti per attaccare Vedremo se saranno tante battaglie In gara sarà spettacolare Oppure meno Chissà Con la My Driver è sempre tutto abbastanza spettacolare Essendo anche su un videogioco ci sono zero rischi Quindi sarà molto probabilmente Tutto quanto divertente da vedere Ecco quindi vedremo Vedremo dai Comunque Mondiale che ci vede tranquillamente in testa Con 25 punti o 24 Non lo ricordo bene Su Hamilton Vedremo se riusciamo a tenere questo margine Perché ci serve Veramente utilissimo Per cercare di stare tranquilli nel mondiale Non fare errori Andando sotto pressione come l'anno scorso Ferrari invece con soli 7 punti di vantaggio sulla Mercedes Sarà difficile per loro rimanere davanti Vediamo un attimo la nostra strategia Che non muta molto Anzi dal punto di vista delle gomme Non cambia per niente Cambia giusto un po' il carburante Come sempre alleggerito Per essere più agili Nelle prime fasi di gara Soprattutto poi andremo a consumarlo tutto Pian piano Per partire adesso Il giro di ricognizione Che scatta in questo momento Con i semafori Tutti verdi Sul volante pilota Che adesso Va a scaldare le gomme Anzi andiamo a scaldare le gomme Tutti quanti Abbiamo un gran vantaggio su tutti In questo giro di ricognizione Un po' strana come cosa Ma va bene Va bene Stiamo tranquilli Il vantaggio comunque serve Prenderlo dopo Non adesso in realtà Ed è uscito adesso Dall'ultima curva Con tantissimo vantaggio Su Fettel Vabbè Non è tanto utile Come cosa adesso Scaldiamo un po' le gomme Prima di arrivare Sul lunghissimo A metà del lunghissimo Rettilinio Non è anche a metà Un quarto Del grandissimo Rettilinio principale Che c'è qui In Messico E andiamo pian piano A schierarci Tutti quanti Che stanno arrivando Da un po' in ritardo Tutti gli altri Adesso che hanno guadagnato parecchio Però in questa fase di rallentamento Che precede Lo schieramento definitivo In griglia Adesso vediamo Cosa succederà In gara Secondo stanno ovunque Già per accendersi i semafori Arrivano ovunque dietro Anche Giovinazzi e Sirowski I due morti in difficoltà Questo weekend Inizia adesso L'ospetto di semafori Anzi L'accendimento di semafori Inizia il countdown Per iniziare questo Gran primo del Messico Attenzione 3 4 5 Sui motori Via Partiti per il gran primo Di città del Messico Con uno scatolo Abbastanza buono La parte nostra Andiamo subito a chiudere Le clerk Dietro che inizia a farsi vedere C'è anche Hamilton Aspetta c'è Bottas Lì e Hamilton Un po' imbottigliato Nel traffico Ci mettiamo davanti A tutti quanti Sfruttando la maggior potenza Della nostra macchina Chiudendo abbastanza cattivi Con Fettel Che si fa vedere all'interno Però tiriamo uno staccatore Perfetto Che ci tiene davanti Senza andare troppo lunghi E qui intanto C'è battaglia Tra Bottas e Leclerc Tra la prima guida Disegnata in Mercedes Che adesso è diventata seconda Vista la situazione del mondiale E la seconda guida a Ferrari Che è diventata prima Vista la situazione del mondiale Attenzione con Ancora loro Che sono side by side Ancora le sister Leclerc Che prova a tenersi in posizione Però Bottas Sembra avere Oddio Eh qua purtroppo Uno spunto migliore Bottas è davanti al Monegasco Per seguire in quinta posizione Mi sembra di vedere Verstappen Oppure Gasly Vedremo Mi sembra di vedere Gasly Vabbè comunque Torniamo avanti Con noi che stiamo affrontando La Shikam velocissima Qui che mette sul rettilineo Abbastanza breve Non lunghissimo comunque Dove Non è semplicissimo Attaccare Però potremmo riuscirci Nel caso ci dovessimo Trovare in difficoltà Qui si può sfruttare molto La pista I commissari Almeno in quel punto Hanno deliberato I track limits Vista un po' la fatica Che fanno le macchine A curvare velocemente Lì e i piloti E quindi Un po' come è successo Nell'IndyCar Al circuito di Austin Quello che ha aspettato La seconda gara Questa stagione Della MyDriver Che ci ha visto vittoriosi Però attenzione C'è Fendel Adesso che prova L'attacco all'esterno Molto al limite Qui a nostra chiusura Quasi a buttarlo fuori di pista Però Non l'abbiamo fatto Vedete Stacchiamo tardissimo E siamo tranquillamente davanti Senza andare neanche Troppo lunghi Questa prima curva Nonostante abbiamo staccato Piuttosto interno E piuttosto avanti Attenzione qui Controllo al limite In uscita Dalla tripla Cioè dal triplo destra Sinistra praticamente Adesso di nuovo Fettel Che si fa vedere all'interno Di questa altra chicane Qui che porta poi Alla doppia curva destra Attenzione È un po' davanti Però qua una rotata Qua ci mettiamo davanti C'è Bottas Che ne approfitta Allora prova l'attacco all'interno Bottas Ci rinfiliamo Cattivissimi Dentro lo tocchiamo Perché non ci lascia spazio E passa di nuovo Fettel Che però prova ad attaccarci all'esterno Adesso di questa curva Velocissima Quest'altra chicane Velocissima Riusciamo a resistere All'esterno Andando quasi fuori pista Teniamo al limite Macchina scompostissima In quel punto Con intanto Bottas Che potrebbe provare l'attacco No non lo fa Infatti ci siamo noi Che adesso riusciamo Dell'inquadratura Tranquillamente davanti Adesso cerchiamo di terminare il giro Senza troppi problemi Sicuramente dietro ci sarà qualcuno Che ci soffierà La prestazione più veloce Per via di nostri Dei nostri battaglie Qui davanti Perché si sono rifatti tutti sotto Addirittura le Williams Un mega serpentone Qui di venti macchine Che sicuramente Darà spettacolo Addirittura la Williams Potrebbe essere ancora In gioco per la vittoria Con grossi stavolgimenti Però penso di no Penso di staccheranno Nei prossimi giri Se sarà tutto più pulito Però c'è già Vettel Che di nuovo prova all'esterno Adesso col DRS Forse Dovrebbe esserci il DRS No non ancora Però comunque Qui all'esterno Non c'è niente da fare Difendiamo l'interno In staccata E non ci sono problemi Prova ad incrociare Poi tra la prima La seconda curva Non ce la fa Non c'è abbastanza spazio Con Hamilton Intanto che è già A ridosso di Gasly Sta già superando Con Verstappen In difficoltà Superato pure Dalla McLaren Di Sainz E mi sembra di tutta Da una AS Davvero così Tante difficoltà Verstappen Non ce l'aspettavamo Intanto Hamilton Passa Si prende il quarto posto Intanto qui noi chiudiamo Vettel Giusti giusti Alla chicane Prima della doppia curva a destra Attenzione adesso Comunque A quello che può succedere Perché Vettel è vicinissimo Potrebbe Vabbè Qui in questa sezione Perde tanto L'intelligenza artificiale Qui non la facciamo Magari proprio al massimo Però vedete ragazzi Che andiamo molto Molto forti Molto più forti di loro Qui un po' lunghi Però fa niente Comunque non è Troppo rilevante Lì per fortuna Anche lì si possono Sfruttare abbastanza Ogni tanto capita Il warning Per fortuna questa volta Non è capitato Qui vedete Sfruttiamo il giusto In realtà solamente Qui attenzione Al limite Qualche correzione Perché ci aspettavamo Una macchina Un po' più sovrasterzante Però in realtà La fine Non è malaccio Dio Poi in questa ultima curva È andata parecchio lunga Intanto qui Giro veloce Ribattuto da Fesel Poi da Hamilton Vediamo se c'è qualcun altro Che tira fuori il Fuchsia No Giro veloce di Hamilton Al momento In 1.19 Che recupera Già è vicino All'Eclerc Intanto c'è Fettel Fettel Di nuovo all'interno Tiriamo di nuovo La staccata Questa volta Fettel può provare Ad arrivarci davanti Siamo ancora vicini Fianco a fianco Però ci mettiamo Giusto giusto davanti Qui accederemo Con quel pelo di ritardo Che fa rallentare Anche Fettel Ma non basta Non basta Perché Fettel È già quasi davanti Adesso qui A metà rettilineo Col DRS Lo chiudiamo Molto interni Attenzione all'esterno Resistiamo Tranquillamente Andiamo un po' lunghi Qui Vediamo cosa succederà Niente niente Però Non mi sembra Succederà qualcosa Con Fettel Che prova all'esterno Ma lo chiudiamo Giusti Qui Passa Bottas Passa Bottas In questo momento Mercedes dovrebbe essere avanti Nel costruttori Ora facendomi due calcoli Così su dei piedi Sì No Non è davanti Sotto di 4 punti Quindi Situazione ancora buona Per afferrare Per gli italiani Perché qui Potremmo davvero allungare Ancora un bel post nel mondiale Su un Hamilton Parecchio in difficoltà Potremmo tornare a quasi 40 punti di vantaggio Un po' come all'inizio Purtroppo qui Il punto veloce Farà Varà come punto Già dall'anno prossimo Novità O meglio Dalla prossima stagione Della My Driver Già nel Così Il gioco lo conta Diciamo su F1 2019 Come nella vita reale Quindi intanto Siamo abbastanza lunghi Molto lunghi Prendiamo tutta la velocità possibile Forse per non farci passare Qui mettiamo subito Sul sorpasso Lers Su overtake E anche Richmix Quindi Miscela grassa Adesso prova L'attacco Bottas All'interno Vediamo però In staccata Siamo tranquillamente davanti Oddio Si è insidiato Però abbiamo tirato la staccata Giusta per difenderci Andiamo qui Un po' lunghi Prendiamo tutta la scia Questa volta Anzi Siamo già su sorpasso Però non mettiamo Richmix Perché stiamo abbastanza Al limite Qui Miscela media Con Bottas Di nuovo Attenzione Qua l'abbiamo chiuso Abbastanza al limite Non dovrebbe Rispetto agli altri Sperto nelle battaglie Mentre noi intanto qui Siamo alla chicane veloce Che riusciamo ad allungare un po' Approfittando Nei tutti i dissidi Qua davanti Con Bottas dietro Che potrebbe essere pronto A recuperare E farsi sotto Dunque già un secondo di vantaggio Non è male Se riusciamo ad arrivare così All'detection point È perfetto Così non dovrebbero esserci attacchi Però già iniziano a farsi vedere Le spunte E dovrebbe essere Già vicino Vediamo qui Come usciamo Non male Sesto giro Quindi il prossimo giro Quello della sosta Come avete visto prima Settimo giro La pit stop Per noi Il primo pit stop È unico Si spera Della gara Magari non due Come a Baku Per dove nemmeno C'è stata cambiata L'alettone Quando potrebbe essere cambiata E potremmo recuperare Più posizioni Però attenzione a Bottas Che prova l'attacco all'esterno Tiriamo una staccata Esagerata E infatti Bottas Quasi ci passa incrociando Invece ci mettiamo davanti Per fortuna Attenzione adesso Fettel che è vicinissimo Siamo tutti vicinissimi Il pacchetto di mischi adesso Con anche Gasly Dietro che è arrivato Che si sta giocando Il tutto Il tutto qua davanti E insomma qui Staccata all'interno Bottas Resistiamo all'esterno Ci mettiamo tranquillamente davanti Non riesce nemmeno a riattaccare Alla fine della chicane Adesso attenzione Siamo attenti con Fettel dietro Però non si fa vedere Non riusciamo a fare abbastanza bene Questa curva Non c'è niente altro per il giro Quindi andiamo direttamente A fine giro Con il pit stop Perché come vedete qui Freccia a destra Andiamo adesso Nella pit lane Per effettuare il nostro pit stop Ci seguono Fettel e Hamilton I due primi piloti Ecco delle scuderie ormai Oppure Fettel rischia di entrare secondo Comunque quello messo meglio Almeno in gara Primo momento è Hamilton Non so perché si è rientrato Nonostante Bottas Stia andando molto meglio Questa gara Fino ad ora Chissà magari per cercare Veramente di lottare Solo con Hamilton Per il mondiale A punta unica Forse la Mercedes Su un pit stop Abbastanza veloce Nessun blocco Quindi possiamo stare tranquilli Riusciamo anche abbastanza forte Forse riusciamo a guadagnare Un po' in uscita Tizzer Però arriva Sirotkin dietro Potrebbe rallentarci Invece no Invece no Arriviamo davanti La Williams È talmente lenta Che non è in grado Di arrivare davanti A due macchine Che stanno scendo dai box E Fettel deve pure battagliare Perde un po' di tempo A lottare con Sirotkin Quindi buono per noi Buono perché riusciamo ad allungare E stare un attimino Più calmi adesso Pure se già nella Nella freccetta Fettel Pure se in realtà Non ce la fa ad attaccarci Entra a fine del giro Facciamo comunque Dei buoni parziali Con Bottas adesso Che sta uscendo Sta arrivando Bottas Sta uscendo meglio Dal box Vediamo adesso Se si ritrova Attenzione Ecco siamo passati Siamo passati Ragazzi Stiamo volando Vediamo se adesso Riusciamo a fare il giro veloce Magari in gara Con Fettel e Hamilton Di dietro Che lottano tra di loro Fettel attenzione Che deve resistere Hamilton che va all'esterno Infatti si mette Si mette davanti Tranquillamente Seb Attenzione qui intanto Leclerc Leclerc Nel traffico Rientrata Ha perso un sacco di tempo Al pit stop E non è andato lungo Sainz Sì Sainz Che sfiga In queste ultime gare Per lui Adesso sta subito Andando all'attacco Di una Williams Penso sempre a quella Di Sirotkin Che non si è ancora fermato Sta andando parecchio lungo E sta perdendo davvero tanto Anche l'altra Williams Mi sembra rivedere Di Russell Non è messa tanto meglio Se invece Russell C'è un'altra volta Da alzarsi in piedi Sul divano A applaudire Intanto qui Si era rifatto parecchio sotto Vettel Prima della zona Delle chicane veloci Questa qui Destra Sinistra Destra Sinistra E poi Destra Sinistra E giro veloce Da parte nostra Ribattuto da Fettel Di un decimo Solamente E Fettel È già dietro Insegna Può già provare di nuovo L'attacco Per l'ennesima volta In questa gara Eccolo che Spunta Prova l'attacco all'esterno Ha un buono spunto Qui la Ferrari Però in staccata Ci rifacciamo ancora una volta sotto Con gomme più dure Riusciamo anche A farla meglio Ha una macchina più scarica In realtà Magari anche quello Che aiuta Ad andare più forte Insegna Qua molto a limite A sfruttare tutto In uscita Il possibile Con Hamilton Intanto Hamilton No no Si è solamente spostato Per fortuna Di Seb Negli specchietti A farsi vedere Diciamo Da Seb Perché potrebbe Eserci un attacco imminente Intanto Continuiamo Siamo già Oltre il decimo giro Siamo ben oltre Metà gara Dove ci siamo fermati Praticamente Ci sono fermati tutti Dopo metà gara Adesso anche le Williams Che erano dietro Intanto abbiamo Un buon vantaggio Qui su Hamilton Che intanto L'otta con O meglio no Sulle Mercedes Più che altro Perché poi Il quinto Dovrebbe essere Sì Gasly Di dietro Che non penso Sia in grado Di rifarsi sotto Intanto qui Fetern invece È in grado E lo dimostra Adesso con un bel attacco All'interno Vediamo Staccata Direi veramente Una gran bella staccata Fetern Ma in curva Ne approfittiamo Ci rimettiamo davanti Qui cattivi Come prima Lo chiudiamo C'è Bottas Che si rincolla Subito Prova Anzi Hamilton Che si rincolla Subito Attenzione Andiamo lunghi Noi in questa doppia curva A destra Allora Fetern Approfitta Si prende la testa Nella gara Vediamo se sarà in grado Di resistere davanti Attenzione Molto più lento di noi Però in questa sezione Dobbiamo Evitare di tamponarlo Di un nulla Attenzione Qui guardate Come riusciamo A essere più stretti Oddio Fatichiamo un po' A tenerla in pista In realtà Facendo la stretta La curva Però attenzione Arriviamo da lontanissimo Staccata all'interno Attenzione Lo passiamo Con un piccolo contatto Allora arriva Hamilton Che prova L'attacco all'esterno Attenzione Ci prova a chiudere Andiamo lunghi Pure di nuovo Qui attenzione Nella scicalla lentissima Che stiamo facendo Attenzione Ci mettiamo davanti Di nuovo Mamma mia Adesso attenzione Però bisogna soffrire Anche su rettiline Siamo sfruttando tutta la pista Forse anche un po' oltre E attenzione Perché siamo tutti vicini Siamo i quattro Che si giocano la vittoria Qui con Hamilton Che adesso prende gli RS Prova l'attacco all'interno Arriva anche Fetter All'esterno Attenzione Siamo in tre Almeno in tre Attenzione Con Bottas Che arriva pure in quattro Praticamente per un attimo Almeno in tre Sicuramente Con le due Mercedes Che lottano fra di loro C'è il contatto Non è l'esterno Facciamo una resistenza Incredibile Ce le teniamo dietro Entrambe E perdono un sacco di tempo Qui battagliano I due della Mercedes Ancora side by side Abbiamo guadagnato quasi un secondo Adesso dopo curva 1 e 2 Dopo le prime tre curve Nel primo settore Attenzione Con Hamilton Hamilton Che si deve ancora difendere da Bottas Qui tirano Staccata Attenzione Perdono tantissimo Piccolo errore Del quattro volte Campione del mondo Mi sembra Oddio Da qui non si capisce bene Anzi è Bottas Che ha fatto l'errore Attenzione Porta Hamilton Anche a tagliare Qui forse Forse è arrivato un warning Chi lo sa Attenzione Ancora side by side Arrivano qui alla chicane Vediamo chi ha la meglio Non ancora Non si sa ancora Con Hamilton Che resiste all'esterno Incredibile Quanto non l'ho dovuto lottare Zero ordini di squadra Qui in Mercedes Anzi Bottas Anzi si no Scusate Hamilton Hamilton davanti Vediamo se qui in curva Ci sarà l'attacco Però attenzione C'è Bandiera Bandiera gialla Bandiera gialla Attenzione Si stacca Gasly Si stacca Gasly Fuori Peccato Peccato Perché poteva lottare Per il podio Poteva fare il secondo podio Di fila Qui la Red Bull Con Gasly Che sta andando decisamente Meglio di Verstappen In questa fase di stagione A differenza della vita reale Dove il confronto È praticamente il contrario Comunque arriviamo su Retilino Abbiamo un grandissimo vantaggio Adesso Sule Mercedes Su Vettel Quindi dovremmo forse Andare già A vincere la gara Tranquillamente Intanto qua Bottas Svernicia Emilton Retilino Senza DRS Si trova in difeso Con Vettel Intanto che passa Emilton Attenzione Che battaglia tra i due Intanto Oh attenzione Ci giriamo a muro A muro Incredibile No errore Errore da parte nostra Buttiamo al vento Una gara Sicuramente una vittoria Potrebbe essere la quinta stagionale Pareggiare il nostro record Che abbiamo fatto il primo anno E invece no E invece no Proviamo subito a ripartire Il più veloce possibile Non è veramente Brutto errore Da parte nostra Intanto Bottas Ha allungato davvero tanto Su Vettel E Emilton Che stanno battagliando tra loro Chissà se poteva Prospettarsi questo Ritorno alla vittoria Per Valtteri Che non vince Il Gran Premio del Brasile Del 2019 Però qui vedete Non ce la facciamo A stare in pista Ragazzi Ovviamente Pistop sicuro Perché siamo senza lettone Completamente Brutto errore Veramente Non ne facevamo così Da un sacco di tempo Dall'anno scorso Dal Brasile Direi Dato qui arriva U Attenzione Magnussen Ci tocca E passa adesso Kiviat Vediamo chi passerà Tra i due Noi facciamo la curva Normalmente Passa Kiviat E ne approfitta Del fatto che Magnussen Ha avuto problemi A superarci Non ci ha superato Nessuno dei due In realtà Adesso passiamo Entriamo nei box Ancora una volta Molto al limite Qui Quasi finiamo a muro Pure per entrare Veramente Gara completamente Rovinata Speriamo in una safety car A questo punto Anche perché c'è stato un ritiro Se non sbaglio Di Sirotkin Vedete qui Cambio da lettore Mettiamo però almeno Gomme Hypersoft Magari Se c'è un miracolo Una safety car Possiamo approfittare E risalire tutto il gruppo Quasi almeno Almeno limitare i danni Nei confronti Di Hamilton Nel costruttore Della Mercedes Perché qui Stara allungando Sicuramente tanto E veramente qui Mondiale costruttore Che se ne va In direzione O Maranello O Breckley Una delle due Ecco Intanto qui usciamo Con Sirotkin indietro Fotocopia del primo pit stop L'uscita E siamo rimasti Sempre lì Con lo stesso vantaggio Nonostante un pit stop In più Intanto qui Hamilton Lungo Lungo Hamilton Passa Vettel Passa Vettel Si prende il secondo posto Errore incredibile Quattro volte campione del mondo Viene superato dall'altro Quattro volte campione del mondo E intanto qui vedete bandiere gialle Per Williams Non c'è safety car Nonostante che sia una posizione Abbastanza pericolosa Lì in realtà Non lo dico Per avvantaggiarci Però abbastanza pericolosa Eh ragazzi Non viene chiamata safety car Intanto qui c'è Bottas Paracchi avanti Noi intanto qui Che fatichiamo un po' A cercare a recuperare gli altri Però comunque stiamo facendo Sicuramente il giro veloce Ragazzi E qui intanto c'è Bottas Che arriva alle ultime curve E adesso deve subito Stare attento dietro A Possibili Possibili Cioè se fa un errore In realtà quelli dietro Non stare attenti Però penso che stia allungando Davvero tanto An approfittato dell'errore Di Hamilton Ormai Salve errori come il nostro Bottas Dovrebbe aver vinto la gara C'è anche un gran bel vantaggio Quasi Mezzo rettilineo Principale Di vantaggio con Hamilton Intanto che si fa vedere All'interno di Fetter A questo punto Va a quel paese La vittoria di gara Attenzione con Hamilton Che lo svernice rettilineo Di potenza Si riprende la posizione Su Fetter Che però proverà Forza a contrattaccare Qui in questo punto Qui dove ci sono stati tanti Tante battaglie Almeno con Gabbo Vedremo se sarà in grado Di contrastare anche la macchina Quasi superiore Come la Mercedes Invece no Invece no Intanto qui continuiamo Invece con Hamilton Che si deve difendere Questa volta la Fetter Nel giro seguente Con Fetter che prova all'esterno Non ce la fa Non ce la fa A superarlo Incredibile Qui la Mercedes Siccome abbia portato Una buona evoluzione di motore Attenzione qui esce Però Molto vicino Fetter Vediamo se col di RS Riesce a passarlo Perché è veramente incollato Qui Vediamo all'esterno All'esterno Fetter Non lo passa dove è più facile Ce la fa dove è più difficile È incredibile È un po' strano questa cosa È un po' anche come Nella vita reale Fa sorpassi difficili Ma le cose semplici Un po' non gli riescono A Fetter Tipo i sorpassi su Bottas Nella vita reale Con Bottas Che ha perso parecchio C'è da dire Nonostante la battaglia Tra Fetter e Hamilton Magari sono messi un po' D'amore d'accordo A questo giro E hanno recuperato Un bel po' Sul finlandese Intanto ci siamo noi qui Che siamo da soli Un po' come la molecola di sodio Per prendere la citazione di Nasca Qui intanto C'è Sirotkin Sirotkin possibile Sì Che non so perché Non dovrebbe essere già fermo Boh ragazzi Un po' strano Questa cosa Vabbè Vabbè Lasciamo perdere Sti bug del gioco Ma vabbè Continuiamo Acqua e ti bug Per citazioni epiche Qui intanto esce Fetter Che si deve difendere Da Hamilton Siamo ormai Al penultimo giro Bisogna stare attenti Perché adesso Hamilton Arriva a prendere tutta la scia Va all'interno sicuramente Vediamo se Ce la farà Fai te la contrattaccare No Troppa potenza per la Ferrari Troppa Mercedes E troppo Hamilton Purtroppo Abbiamo già detto prima Troppo Gabbo Nel Due gare fa Per tutti E invece qui Troppo Mercedes Per tutti Troppo motore Mercedes Perché comunque la Ferrari Globalmente qui era forte Però di motore La Mercedes Si sta prendendo questa doppietta Incredibile Potrebbe essere la seconda consecutiva Mai successo nella storia Della My Driver Due doppiette consecutive Anzi Sicuramente Non è mai successa una doppietta Mi sa Da quel che ricordo Ecco Non c'è mai stata una doppietta Perché c'è sempre stata Una grande differenza Tra compagni di squadra Attenzione Qui siamo molto larghi Perché Fatichiamo adesso Con le gomme che sono finite L'ultimo giro Gara veramente deludente Siamo in ultima posizione Vediamo se almeno Riusciamo a prendere Giovinazzi Quel gruppo là davanti È impossibile Dovremmo avere Una Mercedes Per andare a prenderli O una Ferrari E intanto Valtteri Bottas Arriva nella sezione Dello stadio E si va a prendere Questo Primo successo stagionale Interrompe un grande digiuno Un digiuno che è stato Lungo Nove gare Non vinceva dal 2019 Va a vincere Quindi Valtteri Bottas La sua prima gara stagionale Rientra in lotta per il mondiale Hamilton si rifà sotto Tantissimo Con Vettel Poi Leclerc Che riesce a recuperare dal traffico E non è nemmeno lontanissimo Dagli altri Poi Hulkenberg arriva Sesto Un deludentissimo Verstappen Settimo Kvyat Non male Grande prestazione La sua in realtà Veramente Con la Torre Rosso Che quest'anno Stavamente faticano Tanto Ottavo un grandissimo Kimi Raikkonen Nono un buon stroll Decimo Un senso in difficoltà Per seguire tutti gli altri E arriviamo noi Che concludiamo Con un finale Abbastanza opaco Rispetto alla nostra prestazione Eccoci qui Nel dopogarra Ragazzi Volume un po' alto Per un attimo Vabbè comunque Vittoria di doppietta Mercedes Con Bottas Che riesce a mettersi dietro Hamilton Senza grossi problemi Batte il compagno di squadra Che è stato davanti Per tutta la stagione Rientra in lotta Per il titolo Andiamo a vedere dopo la classifica Con Hamilton Secondo che recupera un sacco Poteva ritrovarsi In testa al mondiale Purtroppo non ce l'ha fatta Purtroppo per lui Per fortuna per noi Poi terzo Fettel Che recupera tanto Però lui Recupera altri tre punti Sulle Clark Che sta un po' subendo Il confronto Con i compagni di squadra In queste ultime gare Quinto Un super Dagno a Ricciardo Che ce lo siamo persi Sesto Verstappen Settimo Kvyat Ottavo Raikkonen Nono stroll Davvero una buona gara La sua rimontando da quindicesimo Buona anche quella di Kimi Anche quella di Kvyat Che hanno fatto avanti Dei grandi recuperi Poi decimo Sainz Undicesimo posto Per Romain Grosjean Che un po' rovina Il lavoro fatto in qualifica Dodicesimo Hulkenberg Tredicesimo Lando Norris Quattordicesimo Alexander Albon Che non fa niente male Comunque Rispetto ai compagni di squadra Alla fine Sta un po' faticando Però Purtroppo ha perso La posizione in classifica Sicuramente Poi quindicesimo Magnussen Sedicesimo George Russell Noi diciassettesimi Avete visto la nostra gara Purtroppo Un errore Che ci è costato molto Siamo arrivati Con un sorpasso Su Giovinazzi Che ci siamo persi All'ultima curva Possibile O meglio Non proprio all'ultima curva Però lì vicino Ecco Nella sezione dello stadio Con una ruotata Abbastanza cattiva Quindi Almeno non siamo finiti ultimi Ah quindi ha finito fuori Anche Russell Fuori Russell e Sirotkin Fuori Anzi no Finito fuori Chi era quello Ah si giusto Gasly e Sirotkin Non so C'è stato qualche bug Comunque abbiamo visto la Williams Prima Peccato per Gasly Perché poteva essere Forse un podio Non lo so Dunque Penso se la sarebbe Votta giocare Questa gara Tranquillamente Potrebbe addirittura Vincere Una stagione Veramente brutta Per la Red Bull Che non sta vincendo Una gara Stava rischiando Di finire dietro Alla Racing Point Che guida praticamente Solo con Gabbo Come punti Fatti nel mondiale Vabbè Qui intanto Abbiamo invece Classifica piloti Che ci vede ancora avanti Ma diverente di poco Adesso Hamilton Ha recuperato in due gare Tutto nello svantaggio Che aveva E adesso sicuramente Ha riaperto il titolo Anche Leclerc La corsa per il titolo Con Leclerc dietro Che è solo 25 punti Lontano Che vedremo La prossima gara In Canada Sarà in grado Di vincere Come ha fatto Fetter Nel 2018 Fetter che per appunto È solo 5 punti Più dietro Quindi anche lui Tranquillamente Lota E Bottas pure È ancora lì A 40 punti Ha riuscito a recuperare Un grandissimo svantaggio Che aveva sin da inizio anno Adesso vedremo Sarà in grado Di dare il colpo finale Come ha fatto Fetter L'anno scorso Per giocarsi Fino all'ultimo Il titolo Della My Driver Poi sesto posto Per Gasly Al momento Che perde Un'occasione d'oro Per ritornare in lotta Per il titolo Con questi problemi Della Red Bull Settimo Verstappen Non male Anzi più che non male Veramente male In realtà Perché finito dietro Un buonissimo Ricciardo Con macchina migliore La presi Da mezzo inferiore Ricciardo Poi ottavo Sainz In mezzo Che si è portato a casa Un punticino Non si stacca completamente Da Verstappen Anche se sarà molto dura Per lui Spassarlo Ricciardo Passa Ul Che merda in classifica Per essere tutti uguali Quindi passiamo a classifica Invece costruttori Che vede la Mercedes Passare davanti alla Ferrari Con questa prestazione Non buonissimissima Al team di Maranello Questa seconda Doppietta consecutiva Della Mercedes Invece Che fa molto bene A loro E qui si sente Veramente la mancanza Dei punti Non portati a casa Dalle Clerc In Bahrain E in Cina Bahrain per problemi tecnici In Cina Per l'errore Di Leclerc Ovviamente è peccato Se no adesso parleremo Di Char Forse in testa al mondiale O almeno in lotta Poi terzo Terza Racing Point Noi che siamo in vantaggio Di soli 4 punti Sulla Red Bull Stiamo faticando Tanto per tenercela dietro Poi rimane lì La McLaren Che perde un bel po' Di vantaggio Sulla Renault Solo 11 punti di differenza 3-2 Sesta Quindi settima Poi la Has Che rimane lì La Toro Rosso Guadagna parecchio Chissà se riesce a fare Un buon finale di stagione Dopo comunque Il quinto posto Replicabile Dell'anno scorso Noi la posizione Poi per l'Alfa Che dovrebbe essersi messa Al sicuro Della Williams Detto questo ragazzi Vi lascio al prossimo video Lasciate like E iscrivetevi E ciao